buongiorno ciao ragazzi dice leo che... ciao ovviamente noi stiamo partendo per andare al mare e questo è il tempo voi me lo dovete dire noi stiamo andando al mare Leonardo si voleva portare anche il costume avevo tirato fuori anche gli occhiali da sole io ho visto un fulmine ho visto un brutto fulmine lassù cioè più ci avviciniamo alla destinazione più il temporale peggiora allora siamo al Waldorf Palace Hotel vi faccio vedere il bagno il bagno non so perché ma quando entro in una camera di hotel il bagno è la cosa che mi piace di più dipende poi dai piccolino però è carino è piccolino ed è carino guardate qua c'è un... appena lo aprite un fiore qui dentro abbiamo coton fioc salviette struccanti sapone e cuffietta per la doccia e qua credo che sia una crema qui c'è la doccia che non abbiamo ancora provato all'idromassaggio all'idromassaggio mmmm interessante questo è un super armadione sono i super letti incasinati che non vi faccio vedere perché è un caos abbiamo messo caos dappertutto e poi c'è il fuori allora guardate questo qua è tutto il parco che è qui dall'acquario eh l'acquario è praticamente questo quello là poi c'è un altro pezzettino qua dietro che non si vede qui c'è un po' di neve e poi papà D dice che da queste parti ci dovrebbe essere San Marino papà D dice ma questa è una colazione eh si si guarda ma ti sei appena mangiato le brioche? no ho dovuto assaggiare per farvi compagnia adesso inizio a fare la mia colazione quando siete a posto voi no? allora lì abbiamo il mare e qui c'è la piscina questa invece è l'altra piscina Leo il mare è lì questo è l'antipasto Leonardo vuoi assaggiare? no grazie ci tengo ragazzi che cosa ci sarà qua dentro? è una sorta di involtino di pesce di salmone allora i tagliolini non ho fatti in tempo a riprenderli perché papà D se li ha mangiati già tutti questa è una gelatina di tarocco eh però quella di papi D è un po' svinuta non è una gelatina non è una gelatina c'è scritto gelatina di tarocco non ho coraggio di assaggiarti com'è papà è buonissimo mmm lei adora? buonissimo è buonissimo è buonissimo è buonissimo è buonissimo modo no non sto parlando con te cosa fai? da solo con la telecamera? ora sei impazzita eh? dice che chi parla da sola con la telecamera è impazzita lui due qui siccome fuori brutto tempo e non possiamo uscire si è portato fortnite guardate scusi lei per caso è Leonardo di ah eccolo si si è proprio lui sta giocando fortnite dov'è Rimini? Rimini è a un quarto d'ora da qua domani domani me contro te fanno un incontro Rimini allora ti prego aiuta aiuta per favore ti prego proprio oggi proprio domani che noi siamo qui a Cattolica ti prego no ti dico dai buona Pasqua ci andiamo buona Pasqua cosa? ci andiamo Pasqua Pasqua vedermi contro te no no Leo per l'amor del cielo e siete tanto carini troppa gente troppa confusione bellaria in gea marina proprio qua vicino ci andiamo ciao 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 ciao